Sabato 18 e domenica 19 settembre vi aspettiamo al Centro Fiere Bicocca per un'edizione speciale di Expo della pubblicità. E' un'edizione speciale di Expo della pubblicità. E' un'edizione speciale di portare con voi il biglietto e naturalmente di mostrare il Green Pass per una ripresa in sicurezza tutti insieme. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!